Oggi qui all'alberghiero di Termoli si parlerà di antitrust con un rappresentante dell'Agicom che sarebbe l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Ci sarà questo incontro con i ragazzi che si propone lo scopo di dare loro alcuni strumenti innanzitutto conoscitivi di quello che l'autorità fa e delle ricadute che ha avuto in passato l'enforcement delle regole antitrust e poi l'intento è anche quello di affrontare temi di attualità quali quelli legati al mercato elettronico quindi all'e-commerce, alla composizione di questo mercato, agli operatori che si incontrano e soprattutto a quelle che possono essere delle trappole in cui consumatori giovani e nativi digitali come loro possono cadere. Stiamo parlando con il dottor Antonino Lambrosio che è anche tra le altre cose origine molisane quindi di Montenegro, di Bisazio se non andiamo errati. Assolutamente sì. E quindi lei oggi parlerà a questi ragazzi mettendoli anche in guardia sotto quello che potrebbe essere questo ginepraio non lo chiamiamo ginepraio di situazioni che appunto comportano anche l'intervento dell'antitrust insomma. Assolutamente, anzi noi abbiamo bisogno che siano gli studenti stessi quali i consumatori in erba ad aiutarci attraverso le loro segnalazioni perché le segnalazioni costituiscono una parte interessante dell'apparato probatorio su cui poi basiamo il nostro intervento sul mercato. Senta, dal 1990 che è andata in vigore questa legge nell'antitrust, ecco lei stando appunto direttamente, essendo direttamente interessato in questa cosa, lei con il suo lavoro, in Italia sotto questo profilo come ci proponiamo in questo senso, magari a differenza degli altri stati europei? Diciamo che l'autorità garante della concorrenza e del mercato è considerata una delle istituzioni che ha interpretato in maniera più intensa e rigorosa le previsioni del trattato di Roma tant'è che la legge istitutiva, la legge 287 del 90 non è che è una trasposizione di quello che era già stato sancito dal trattato di Roma. Quindi l'autorità in questi 26 anni riteniamo abbia fatto cose importanti, quelle di rivolgersi a mercati che risultavano completamente fermi e chiusi e rendere anche questi mercati effervescenti dal punto di vista concorrenziale, pensiamo al mercato della telefonia sia fissa che mobili e pensiamo al mercato del trasporto aereo. Quindi diciamo che il cittadino, il consumatore in questo senso, che possono essere anche questi giovani che possono anche diventare imprenditori, possono essere salvagordati da questi interventi che appunto voi tenete sempre in guardia. Al centro dell'azione dell'antitrust c'è proprio il consumatore e la sua tutela e lo scopo ultimo è quello che il consumatore possa trovare beni e servizi a prezzi concorrenziali e con un'alta qualità, quello che è alla base del concetto di fondo che anima tutta la politica della concorrenza. Conclusione perché stanno arrivando anche gli studenti, diciamo che è una bella lezione che può essere interessante sotto tutti i punti di vista perché comunque sono cose di attualità quotidiane. Speriamo, ci auguriamo. Bocca a loro. Grazie.